E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avete letto dal video andremo a parlare della quest del cattiva condotta e della caverna di Callum. Come già sappiamo in questi giorni è stata rivelata la quest che ci permetterà di ottenere il cattiva condotta o perlomeno sono stati rivelati gli step che appunto la completeranno. Non si sa però ancora come ottenerla. Recentemente è inoltre stato scoperto un luogo all'interno dell'assalto La Corrotta in cui possiamo vedere lo spettro morto di Callum e la sagoma del suo corpo bruciato su una roccia. Permetto che per chi non conoscesse il personaggio di Callum e si volesse informare un pochino di più può trovare il video sul canale che comunque lasceremo in fondo. Ritornando però alla quest del cattiva condotta il primo step di questa era proprio trovare la caverna di Callum e recuperare un oggetto che era appartenuto a Ramingo. Sappiamo che l'oggetto in questione è un frammento in stile cattiva condotta appunto che poi appunto dovremo restituire al gestore di azzardo. Si pensa quindi che il luogo che siamo riusciti a trovare sia proprio la caverna di Callum e che quindi questo frammento si nasconda lì. Dato che mi sono ritrovato anch'io nella situazione di voler raggiungere questo luogo per poi però non sapere dove cercarlo precisamente, vi lascio adesso il percorso per raggiungerlo in modo tale che possiate esplorarlo e eventualmente scoprire qualcosa che non siamo riusciti a vedere. Premetto che la prima roccia che vedrete potrete raggiungerla entrando per la terza volta nel piano ascendente girandovi tornando indietro verso destra. Grazie a tutti. 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 Torniamo però ora a parlare di Callum, del cattiva condotta e della quest. Esplorando questa zona infatti noi non siamo riusciti a trovare niente, se non un percorso che sembra fatto apposta per poterla raggiungere. Questo però non era a noi accessibile, dato che lo avevamo raggiunto a circa metà o comunque nella parte finale. Volendo cercare di tornare indietro però non appena tocchiamo terra moriamo. Il che potrebbe voler dire due cose. O il luogo che abbiamo trovato, altri non è che il luogo finale in cui appunto otterremo il cattiva condotta quindi della quest. Oppure il luogo iniziale da cui potremo poi partire e raggiungere l'effettiva caverna di Callum dove troveremo il fiammento da riportare a Ramingo. Queste sono le nostre teorie, sicuramente sappiamo che questo luogo ha a che fare con la quest. Che probabilmente vedremo in game dalla settimana prossima. In ogni caso ragazzi se avete scoperto qualcosa che non abbiamo visto mi raccomando scrivetecelo qua sotto nei commenti. Io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo. Tra tutti quelli che conoscete e che non conoscete c'è altra lissima. Seguisci anche su Instagram, Facebook come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione. E anche se è bellissimo, nuovissimo, fazzicissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao!